Amici ben rientrati dalla pubblicità, abbiamo lasciato alle spalle la Corsa in Rosa di Piazza d'Italia e ci siamo recati qui al Palazzo Ducale dove si sta per svolgere la conferenza stampa della Cavalcata 2024. Venite con noi e raccontiamo questo evento. La Cavalcata Sarda è una tradizionale festa sarda che si svolge annualmente a Sassari, una delle città principali della Sardegna, solitamente l'ultima domenica di maggio. Questa festa colorata e affascinante è una celebrazione dell'orgoglio culturale e delle tradizioni della Sardegna, in particolare delle sue radici agropastorali e delle usanze legate all'allevamento di cavalli e bestiame. La Cavalcata Sarda è famosa per la sua sfilata di costumi tradizionali. I abitanti della Sardegna indossano abiti tradizionali che rappresentano le diverse regioni dell'isola. Questi costumi sono caratterizzati da colori vivaci, tessuti pregiati e dettagli artigianali elaborati. È una cavalcata perfetta perché sono perfette le motivazioni che accompagnano l'evento e l'attesa. Una grande aspettativa, come sempre, precede la Cavalcata Sarda. Però quest'anno ho visto un entusiasmo rinnovato, ancora più forte. Non so se per l'anticipo dell'evento in sé o proprio per la qualità degli elementi che andranno a caratterizzare questa edizione. 60 associazioni che sfileranno la mattina, gruppi di maschera, il folklore con le danze, gli abiti tradizionali che porteranno il colore. E poi la bellezza ovviamente degli eventi serali. Il sabato sera si apre con Sassari in festa. Tra gli artisti quest'anno Bazz, che torna nella sua Sassari in piazza d'Italia, non è accaduto spesso. Ed è uno dei talenti riconosciuti a livello nazionale. Ma ci sarà Piero Marras, artista amatissimo, Maria Luisa Congiu, ci sarà Giuliano Rassule, Valentes, Beppe Dettori. Sono davvero tanti gli artisti che si alterneranno tra i canti a tenore, i gruppi di ballo, le corali polifoniche. Festeggeremo i 50 anni del coro di Usini, ma soprattutto la città di Sassari assegnerà un premio speciale a Daniele Cossellu, del tenore Remune Locu di Bitti. Daniele ha 92 anni, ha portato il nostro canto in giro per la Sardegna e per 62 edizioni consecutive. È stato protagonista con il suo gruppo di canto a tenore della cavalcata sarda. Cioè per 62 anni ininterrottamente ha portato la bellezza, davvero la fierezza e l'orgoglio di questa Sardegna che attraverso la lingua e la poesia si esprime e attraverso di lui si è rappresentata. Cosa c'è di nuovo? Di nuovo c'è intanto lo spirito, ma tanti elementi che andranno a comporla. Per esempio le 120 donne che sfileranno lungo il percorso la domenica mattina e che andranno a coronare questo viaggio che ancora una volta in ordine alfabetico attraverserà tutti i territori e poi un'auto d'epoca. Ci sarà una donna in abito tradizionale di Osilo, un po' un richiamo alle regine che hanno indossato l'abito della tradizione quando sono state accolte in Sardegna nelle edizioni storiche, ma soprattutto un omaggio alla bellezza e la sottolineatura del valore di un rispetto dovuto alle donne e che mai deve mancare. Io sono freschissima di nomina e sono particolarmente emozionata, ma allo stesso tempo orgogliosa di stare con voi e dichiarire alcuni aspetti significativi di questa 73esima edizione della Cavalcata. Un'edizione che sarà molto bella, come sempre, ma anche ricca di sorprese. Come possiamo giudicare la Cavalcata? È sempre stato un grande palcoscenico nel quale abbiamo visto le manifestazioni più significative della cultura, della tradizione isolana. È un tripudio, un inno alla bellezza, alle tradizioni e al senso di appartenenza. Io l'ho vissuta così da bambina e anche da adulta, ho proprio questo particolare significato, come credo tutti noi. Per quanto riguarda l'edizione di quest'anno, abbiamo anche delle novità. Come ben sapete, la Cavalcata è stata anticipata al 12 maggio. C'è un particolare motivo. Di comune accordo con il comune di Porto Torres, si è pensato di individuare come data il 12 maggio anziché la penultima domenica di maggio, perché in coincidenza con la festa amana di Porto Torres. E quindi c'è stato però un accordo ben preciso, per cui il 12 maggio è la data stabilita, ma sarà allo stesso tempo una cavalcata bella, bellissima, come tutte le altre. Che cosa possiamo dire inoltre? Che l'11, il giorno precedente alla cavalcata, ci sarà tutta una serie di persone, di protagonisti nell'arte della musica e del canto che appunto ci accompagneranno dalle 18 in poi. e anche la sera del 12 possiamo divertirci e stare insieme a persone di alto livello che caratterizzano appunto dal punto di vista musicale la nostra isola. Le novità quest'anno sono date intanto dallo spostamento dall'anticipo della data dal 19 maggio al 12 maggio. e la cosa che ci inorgoglisce è quella che finalmente ritornano le pariglie che sono da un po' che non le vediamo, intanto per la pandemia e poi c'è stato il maltempo che non ci ha consentito di vedere questo spettacolo che attrae moltissimo e siamo tutti orgogliosi di poterlo riproporre alla città in questo evento che è l'unico evento veramente laico e che trascina per la sua bellezza e anche per la sua dinamicità diciamo tutta la città e non solo. È un viaggio per la Sardegna che ci fa piacere gestire e coordinare. Il percorso sarà quello consueto cioè partiremo da Corso Cossiga per arrivare in via Brigata Sassari, via Cagliari saliremo per Portici Crispo e poi finalmente arriviamo in Piazza d'Italia e poi si conclude per via Roma. Ci saranno circa 2000 figuranti, di questi 2000 figuranti abbiamo anche oltre 200 cavalieri di questi molti diciamo saranno in coppia, cioè cavalcheranno in coppia e poi finalmente, che la cosa devo dire bellissima da vedere, la conclusione delle 120 donne in costumi tradizionali che chiuderanno, ovviamente prima della macchina, cioè dell'unica macchina che è stata costruita in Sardegna, chiuderanno la manifestazione. L'evento di sabato sera ha richiesto notevole impegno, dobbiamo dire, è stato un grosso impegno anche del direttore artistico ma ritengo che a partire dalle 18 la città possa, come dire, godere anche di questo momento musicale che abbiamo visto l'anno scorso ha avuto molto successo ma contiamo di replicarlo forse anche con maggiore intensità rispetto all'anno scorso. Quest'anno speriamo di andare molto meglio rispetto all'anno scorso, ho visto insomma l'annullamento dell'ultimo momento per causa pioggia, quindi quest'anno è previsto l'inizio delle pariglie dalle 16.30 circa con sei gruppi che sono i gruppi di Ovodda, Fonni, Norbello, Sanvero Milis, Logudorezza e i cancelli dell'ippodromo saranno aperti dalla mattina per l'accoglienza dei cavalli che si prevedono circa 250 per poi portare avanti tutta la giornata perché tradizione è che all'ippodromo dopo la sfilata tutti i manifestanti, i cavalieri, i amazzoni e via dicendo rimangano lì per pranzo per poi dare il via allo spettacolo pomeridiano. Amici si conclude così questa nostra puntata di Molitorando, l'appuntamento è rimandato alla prossima, eccomi con di solito, chi punia qui ne mette, ciao! Grazie a tutti!